Euro-Dollaro analisi tecnica 31 marzo 2015 a faxempar.it Come potete vedere durante la sessione di lunedì la coppia Euro-Dollaro si muove in ripasso mostrando serie difficoltà nel tentare di intraprendere qualsiasi azione rialzista. L'area 1-09-1-11 funge tutta da massiccia resistenza motivo per cui ogni tentativo di rally dovrebbe avere vita breve. Se rompessimo al di sotto di quota 1-08 ci aspettiamo che il cross scivoli a 1-05.